Ciao Valdichiana, oggi ci troviamo qua all'interno del bellissimo Parco Fucoli di Chianciano perché ci siamo. Sta per partire la ventesima edizione della Festa della Musica di Chianciano Terme, un appuntamento ormai fisso per l'estate chiancianese ma per l'estate di tutta la Valdichiana. E sono qua con Giacomo Benicchi, presidente dell'Associazione E20, che organizza la Festa della Musica. Allora, ci siamo, siamo ai nastri di partenza, che cosa ci riserva quest'anno la Festa della Musica di Chianciano Terme? Siamo arrivati alla ventesima edizione, quindi è un traguardo molto importante per noi. Siamo partiti venti anni fa dal basso, sempre mantenendo una delle prerogative principali del festival, che è quella di fare esibire gli artisti locali a chilometro zero. Quindi sia vent'anni fa il festival era nato appunto per quello, per dar modo ai gruppi locali di esibirsi comunque in un palcoscenico importante e negli anni è sempre stata mantenuta questa cosa. Quindi anche quest'anno abbiamo riservato una serata dedicata agli artisti locali, che è la prima serata del festival, che è mercoledì 24 luglio. Poi proseguiamo con il giovedì, che avremo come headliner Luque, che è uno dei rapper più in voga adesso, ha appena fatto il disco di Platino da pochi giorni, quindi ci aspettiamo un sacco di gente. Mentre il venerdì avremo come headliner i Deluxe, che sono uno dei gruppi di punta in Francia. Il sabato avremo come ospiti i Sud Sound System, che sono dei pionieri del reggae italiani, non hanno bisogno di presentazioni. Mentre la domenica avremo il gruppo Compai Secondo, che anche loro sono un gruppo storico cubano, che per noi è veramente un onore poterli ospitare al festival. E questa è la parte musicale, questo è un festival che non lascia niente al caso, un menù particolare che accompagna la musica di Chianciano Terme. Sì, il festival chiaramente non è solo musica, ma abbiamo anche stand enogastronomici, quindi abbiamo un ristorante a chilometro zero, con piatti tipici toscani, a base di selvaggine, abbiamo uno stand pizzeria, in più abbiamo installazioni, il mercatino, che si trova qui appunto, verrà fatto qui nel nostro viale, in più abbiamo anche installazioni artistiche, mostre fotografiche, quindi è un festival a tutti gli effetti a 360 gradi. E allora andiamo a scoprire il festival di Chianciano Terme attraverso la voce degli organizzatori in varie location di questo bellissimo Parco Fucoli. Ed eccoci qua all'interno del Palamonte Paschi del Parco Fucoli di Chianciano Terme con alle nostre spalle il palcoscenico, palcoscenico che sarà calpestato dagli artisti internazionali che verranno qua alla festa della musica di Chianciano. Ma quest'oggi siamo con Fabio, Fabio si occupa della parte audio di tutto il festival. Allora, raccontaci in modo particolare il tuo lavoro. Niente, il mio lavoro si svolge principalmente come stage manager, quindi mi occupo della direzione del palco. Oggi siamo qua entrati con le strutture, quindi stiamo facendo operazioni di regraggio e appendiamo tutto l'alluminio e il ferro che c'è da appendere per essere pronti per domani per l'arrivo della strumentazione audio, luci e video. Ecco, tu lavori in stretto contatto con gli artisti. Ci sono richieste particolari durante i spettacoli e se sono già arrivate per questa edizione? Allora, le richieste solitamente arrivano sempre in fase di preproduzione quando ci sono i primi contatti con le produzioni. Di particolari ce ne sarebbe un'infinità. Diciamo che la più bizzarra che è successa per questa edizione vogliono una grossa palla specchia centro palco, non vi dico chi, però questa è la più bizzarra. L'abbiamo trovata, la porteremo e sarà da montare. Ecco, e invece parlando, ovviamente il tuo è anche un lavoro molto molto flessibile che sta dietro alle idee dell'artista. All'ultimo momento, in questi 20 anni di Festa della Musica, è capitata qualche richiesta particolare all'ultimo momento? Beh, solitamente riguarda la backline, le richieste della Spinuit, che magari strumentazioni che si rompono la data precedente o in fase di tour e vengono richieste magari il giorno prima o comunque nella settimana a noi tecnici. Le last minute solitamente sono queste, quelle che poi ci mandano in crisi per trovarla, perché comunque non tutti poi si adeguano a una tastiera qualsiasi o a un basso qualsiasi. Ecco, quindi tu riconosci di avere un ruolo molto molto delicato? Delicato, come tutti, ruoli importanti comunque ricoperti dai vari tecnici all'interno di un festival così. E allora, grazie Fabio, e io vi porto alla scoperta di un altro posto, un altro settore della Festa della Musica di Chianciano Terme. Martina, tu ti occupi, durante le sere del festival ti vedremo impegnata nell'area bar, ma quest'oggi qua con me ti chiedo l'aspetto ambientale del festival, perché il Festival della Musica di Chianciano Terme è molto attento all'ambiente. Come? Allora, diciamo che la Festa della Musica di Chianciano Terme, come avviene da qualche anno a questa parte, sposa una filosofia ecosostenibile, ragione per cui sono stati disposti in zona bar degli erogatori d'acqua potabile per rifocillare il nostro pubblico tra un concerto e l'altro e abbiamo sostituito tutto il materiale di servizio della zona ristorazione con piatti in ceramica, posate in ferro e bicchieri in vetro. Ovviamente l'ABC dell'ecosostenibilità, ovvero la raccolta differenziata, sarà condotta in maniera rigorosa, andando così a chiudere il cerchio della nostra filosofia, che essendo comunque la Festa della Musica ormai è un evento di grossa taglia, richiede e necessita. Diciamo che il Festival dal primo anno della sua esistenza è sempre stato uno dei Festival più attenti a queste tematiche. Assolutamente, per noi rispettare il luogo dove stiamo, in cui svolgiamo il Festival, ovvero un parco di queste dimensioni, di questa bellezza, è la prima cosa. Il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle persone e di quelli che ci concedono questo spazio. E credo che sia uno degli elementi più importanti per sostenere un Festival e per anche rendere più godibile l'ambiente che si ha intorno. Anche perché quest'anno c'è una novità, ovvero i bicchieri. Esatto, i bicchieri in plastica verranno poi riutilizzati nel corso del Festival, quindi eliminando tutta quella che è anche la parte del, seppur riciclaggio, però l'impiego di materiale in plastica che avendo eliminato al bar abbiamo eliminato ovviamente in maniera coerente anche nella zona bar. Franco, responsabile della cucina, del settore cucina, della Festa della Musica di Chianciano Terme. Qual è il tuo ruolo e come avviene l'organizzazione della cucina durante le serate del Festival? Il mio ruolo è, come si è detto, sono responsabile, quello che coordino più o meno la cucina con l'aiuto di altri cuochi che verranno, verrà Marino, verrà Silvano e altre persone che mi danno una mano qui perché il lavoro è parecchio, la festa è grande e si spera che cresce sempre di più. Siamo un bel gruppo dove si collabora tutti con rispetto, con volontà per cercare di migliorarsi anche, di far meglio possibile. e tutto qui, insomma, c'è un bell'impegno che ci si prende perché la festa sono cinque giorni da mercoledì a domenica e si fa migliaia di pasti, fortunatamente. Insomma, siamo contenti di quello che abbiamo fatto in precedenza, speriamo di poter continuare sempre la festa che vada crescendo. Quali sono i piatti che farete assaggiare al pubblico del festival? I piatti si parte dagli antipasti, con un antipasto brado con tutti i salumi di Cinta Senese, che c'è un nostro qui amico produttore di Cinta e poi c'è prosciutto e melone, c'è le bruschette, c'è un antipasto vegano, facciamo. Poi si inizia con i primi, il piatto forte dei primi è il piccio al germano, poi segue il piccio all'aglione, la tagliatella con ragù bianco di chianina, pappardella al cinghiale, questi sono i primi che presentiamo per le cinque serate. Dopo si passa a secondi con il germano in porchetta e l'altro piatto forte della festival sarà il germano. Il germano, come i picci al germano. E lo stinco, lo stinco cofunghi, altro piatto di punta, cinghiale alla bracconiera, capriolo al pepe verde, capriolo al nobile, secondo si alterna nelle serate. Quest'anno abbiamo aggiunto la trippa e i fegatelli. Insomma, tanto pesta leggeri, per capire. Sì, tutta roba leggera. Accompagnato da dei bei vini, ci sa l'azienda di Carpineto qui, che ci fornisce dei bei vini di qualità, di alta qualità, e un'altra azienda qui, il locale, Poggia il Moro, con i vini. Quindi un menù particolare per questa festa della musica di Chianciano Terme. Un menù che ormai è un menù sperimentato, un menù che ha avuto sempre successo da anni. E allora, come si dice, cavallo che vince non si cambia. E allora venite a assaggiare tutti questi ottimissimi piatti qua alla festa della musica di Chianciano Terme. Dopo avervi fatto vedere un po' quello che avviene qua al Parco Fucoli per la festa della musica di Chianciano Terme, siamo con delle nuovissime leve qua, delle giovanissime e bellissime ragazze che fanno parte dell'associazione E20 e che danno un grandissimo aiuto a tutti i volontari della festa. Loro sono? Irene, Jessica, Margherita. Allora ragazze, da quanto tempo fate parte dell'associazione e perché avete deciso di entrare a far parte di questo bellissimo gruppo? Io faccio parte di questa associazione già da cinque anni. Ho iniziato per un gioco, ovvero ero addetta allo sparecchio e adesso ho preso un po' la mano e ho iniziato a servire. Io è da cinque anni che servo in questa festa e ho deciso appunto di andare avanti nel tempo a servire dopo che sparecchiavo anche perché c'era lei che era mia migliore amica. Io invece da due anni che servo la festa della musica ho iniziato direttamente a servire e dopo aver servito chiaramente bisognava sparecchiare. Quindi avete iniziato un po' tutte nel solito modo, dallo sparecchio si inizia da lì. Ma quest'anno voi siete responsabili, insomma vi occupate del settore pizzeria, giusto? Sì, ci occupiamo di questo settore e è da un po' di anni, cioè già dall'anno scorso ci eravamo addetti a servire. Quante pizze e quali pizze si possono assaporare e degustare qua alla festa della musica di Chianciano Terme? Dunque, ci sono moltissimi tipi di pizze e da due anni è stata messa anche l'idea di fare un antipasto con tipo un pasto della pizza fritto e affettati. E diciamo più o meno quanto impegna questo lavoro? È molto perché ad esempio ci sono molti tavoli a persona, anche due tavoli a persona sono molti perché è molto difficile quando c'è molta gente. Allora ragazzi, ci avete descritto in maniera bellissima il settore pizzeria e ovviamente a questo punto non dovete far altro che invitare tutta quanta la Valdichiana a venire alla festa della musica di Chianciano Terme. Certamente, vi invitiamo a questa magnifica festa che ormai è già da un po' di anni che viene praticata in questo splendido paese e vi aspettiamo. C'è tanta musica e si mangia da Dio. Vi invitiamo. E allora con tutti questi bellissimi presupposti e queste bellissime idee anche io vi do appuntamento e mi raccomando dovete venire in tantissimi dal 24 al 28 luglio qua al Parco Fucoli di Chianciano Terme per la ventesima edizione della Festa della Musica e si preannuncia essere un'edizione assordante.